pepperudine qui con voi sono qua gemona assieme all'amico filippo bortolone grande coltivatore di piorto pepper questa è una nuova location perché non è il campo dell'anno scorso ma è uno nuovo adesso filippo ci spiegherà le varietà che ha seminato ciao a tutti quest'anno come potete vedere ho ampliato la superficie ho messo ho messo giù 1200 piante in questo in questo terreno per all'incirca 140 varietà i semi li ho piantati assieme a lexis gosso che saluto altro grande guru e questo è il campo sperimentale numero uno di quest'anno insomma quest'anno ho deciso di aprire l'azienda agricola anno giusto per aprire in parte di febbraio e adesso è diciamo all'apice forse una settimana fa era all'apice della produzione o le piante proprio piene di peperoncini non è stato un anno facile perché anche il clima non ha aiutato giugno è stata veramente dura con i dieci gradi di minima che che ha fatto che a gemona le ho piantate belle larghe come vedete all'incirca un chilometro di righe di campo perché ho messo sono righe all'incirca lunghe 100 metri ho cercato di dividere per specie qui siamo in annum baccatum baccatum e poi chi ne inse chi più ne ha più ne metta abbiamo i thai orange vedete piante iper produttive si sta anche un bel po raccoglierli perciò poi proseguendo abbiamo agi crystal anche questi super produttivi passano da un colore diciamo arancione chiaro a uno rosso più intenso poi abbiamo gli agi amarillo guardate qualche bestioni veramente pazzeschi e le piante sono qua dietro state abbattute dal vento della settimana scorsa insieme anche a un pioppo e la rete dei fagioli insomma mi ha fatto un po di danni mannaggia comunque i baccatum sono sempre tra i migliori sempre veramente sentite che croccantezza come mangiare patatine fritte ammazza buonissimo e questi poi comunque il baccatum come piccantezza è perfetto ma che saremo sui 20 mila è proprio super buono questo per le salse il massimo ma visti anche fatti ripieni tipo di formaggio senti tipo alla pegno mamma mia profumo incredibile il baccatum sono i migliori poi abbiamo i blondi varietà creata da fatali yucca fatali vedete sembra un lemon drop praticamente con le sfumature viola anche il calice prende il colore chiaro esatto piccantezza medio bassa fruttati sono molto buoni croccanti anche questi con questi ci ho fatto una composta di cipolle cipolle sempre prodotte qui nel campo dorate con blondi e profumo di alloro perfetto proseguiamo con i baccatum quindi questi sono gli etiopian pepper tree quindi gli alberi del pepper etiopi stanno sono venuti piccolini l'anno scorso erano cinque volte più grandi ma insomma però dai non ci possiamo lamentare comunque è venuto l'importante poi abbiamo gli starfish orange che avevo provato l'anno scorso bellissimi bellissima pianta anche sembrano delle piccole zucche praticamente e con questi viene bene anche la polvere si viene bene la polvere è molto molto leggera la polvere con questi quest'anno pensavamo di fare un fermentato con starfish orange e fisalis peruviana l'alche kenji diciamo peruviano l'ho già testata l'anno scorso viene molto buona fruttata dolciastra e non troppo piccante acidula ovviamente perché l'acidificazione con lattica porta all'aumento di acidità però molto buona diciamo per tutti poi sì 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 cose medio medio basse come piccantezza e siamo arrivati ai bishop crown ma guardate che bishop cioè sono veramente dei dischi volanti pazzeschi mai visti così grandi eccati questo mastodontici sono grandi come una mano veramente sono mutati non lo so è un paio d'anni che mio padre pianta questi e gli ho detto cavolo di bishop crown eye e mi sono tenuto i semi effettivamente sono quattro volte gli altri sono proprio enormi e guarda questa è la pianta che li fa più stupidi cioè piatti tipo con vedi cioè fanno troppo ridere sti cosi da tenere i semi di questo veramente e qui a gemono ho scoperto che c'è sta tradizione di farli ripieni con le acciughette col limone le acidificano e poi per beneficenza vendono i vasetti ma pensa a te il tipico peperoncino gemonese l'ho scoperto quest'anno effettivamente ci faranno un po di beneficenza noi insomma allora poi passiamo ai chinense qua abbiamo i naga salmon poi a seguire il red nagla quindi naga per douglas e questi sono belli cattivi e poi abbiamo cosa sono questi questi sono sempre i red nagla e questo è un fenotipo cioccoli quindi fenotipi diversi lo stesso ok poi jasper pink che conosce benissimo un bar ippolito fenotipi veramente particolari molto molto belli perché c'è dove lo trovi un poteroncino è un appendino da foto da foto sì allora siamo arrivati in fondo qua abbiamo un'arma praticamente letale i sepia serpent è bella produttiva poi come pianta poi qua cosa sono questi scuri violacei questi sono sempre sempre jasper pink ibridati non so con cosa mi sfuggita un po la mano qui però li tengo perché sono troppo belli pensa magari un ibrido col seppia a fare una bomba chissà mini roccoto brown poi roccoto manzano nella boscaglia è una boscaglia totale questa zona e altri roccoto sempre affascinanti i roccoto difficili da fare secondo me sono tra i più difficili almeno qui in regione non maturano mai e infine abbiamo questi tavoli imbanditi con tutte le varietà di quest'anno un riassunto diciamo delle varietà vedete qua c'è la zona chinense il seven pot primo e di là invece abbiamo annum fruit essence da questa parte il roccoto quindi puba essence e baccatum